Facci i complimenti e secondo me siete state molto male ma siete anche fortunate perché avete di fronte a voi una sfida importante e poter partecipare a delle sfide importanti è un privilegio che socca poche volte a pochi e poche volte nella vita. Quindi quando capitano queste cose bisogna piocarsela tutta, non c'è posto per la paura, la paura o il lusso quindi l'attenzione o lo stress bisogna tramitarlo in determinazione e quindi la determinazione che uno impegna nel mettere a segno il risultato quindi la capacità di fare questo è quello che differenzia dei professionisti quindi delle persone che mirano l'obiettivo e tentano di perseguirlo dalle altre. Voi avete dimostrato che avete la stoffa, che avete la preparazione e quindi nella vita bisogna andare avanti. La competizione è il sale della vita, abbiamo questo obiettivo questo obiettivo, insomma, bisogna ancora di mantenere quanto meno il posto che abbiamo conquistato bisogna assolutamente confistarlo. Quindi quello che io vi auguro è quello di mettercela tutta di non lasciare troppo spazio all'emissione, di giocarsela perché le occasioni vanno prese al volo e è una cosa molto importante per la nostra città quindi già viene anche questo compito di tenere alto insomma insomma insieme a noi non lo rifiutiamo. ce n'avete le capacità, quindi andate avanti senza di voi o dire di più. Grazie.